Cosa, cosa fa di male? Io avrei tirato giù tutti i santi del paradiso se mi fosse capitato una roba del genere Idiota! Che storie! Ciao per tutti, sono Ottili, pure più preteliane In questo video siamo in una reaction ai momenti più fortunati Su quelli più sfortunati, su quelli di karma Su Fortnite Arriviamo a 5000 mi piace per questo video Iscrivetevi se ancora non siete iscritti Perché i veri connessionati puri che hanno una connessione che spacca Sono iscritti al canale e hanno attivato la campanella Se vi va, sostenetemi nello shop con cancione e supporto a un creatore ottico e fi E detto ciò, come al solito Via il cappello e fuori l'uccello Allora, questo dovrebbe essere sfortunato Cosa, cosa fa di male? Io, io avrei tirato giù tutti i santi del paradiso se mi fosse capitato una roba del genere No, però lui è stra sfortunato, Dio Perché, no, non ci credo Cioè, di solito anche se entri per un totto nella save non è che muori subito Boh Probabilmente avrà un pingalo, non so Cosa, cosa fa? Anche questo è teoricamente sfortunato Cosa gli succede? Ma... No! No! Che storie, che storie Per ora sì, stiamo osservando tutte le clip sfortunate Ok Cosa sta per succedere tu qua? Cioè, gli arriva in bo... No! E l'altro non si era accorto di niente La vecchia pinnacoli Raga, pollicione in su se vi manca la vecchia pinnacoli A me sì, preferisco la vecchia Cosa? Cosa? No Ehi Io so già che lui lancia Cosa? Cosa sta per... Ma chi è che mette mai una trappola così? Questi sono momenti proprio assurdi Ma ha fatto un rimbalcio assurdo Ma che cosa? No! Questo mi è successo parecchie volte anche a me Non so voi Qua abbiamo un pro player Infatti, vedete com'è il build veloce? Guarda, guarda Uguale a me È successo un sacco di volte Questo quando il lago era... Vi ricordate quando il lago era tutto rimbalzoso? Cosa succede? Ah, era il tizio Guarda Poverino Ecco qua, di nuovo il lago Super brillante Rimbalzoso Sì, salvami Bonita Quello è italiano Secondo me Forse Benissimo Quando ti arriva un razzo dal nulla è sempre carino Ma secondo me è questo il bello di questo gioco Queste cose random che accadono Vorreste voi la schiena omega, eh? Bravo 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 Nooo Putrido pantano Che ricordi Che ricordi putrido pantano Lui gli dà il pompa Eh, però te la sei cercata E non è che Ti stanche bene Allora, qua abbiamo il karma In azione Vediamo un po' Cosa succede? Ah, adesso lui viene congelato Va fuori safe Palese Palese E muore per la safe Palesissimo Mi dispiace Boob down Te la sei cercata Aveva la jump Non l'ha usata Ok È morto È morto È morto Dice Vediamo un po' Vediamo un po' Intanto si fa del materiale Giusto per Ora viene ucciso Ora viene ucciso Gli sta proprio bene Così impara a ballare Ecco uno dei motivi Perchè non bisogna mai ballare Grande Grande E tra l'altro Lì non si può costruire Ve lo dico io Mi è successo Ve lo dico io Qui in basso Non si può costruire Lo sapevo io Lo sapevo Ma la vecchia Pinnacoli Proviamo a salvare Questo tipo Ma lui è un nemico O no? Non ho capito No Lui è un amico Ah è semplicemente così Nabbo Che non sa ste robe Questo è karma Comunque Che succede? Il bolt action Quanti ricordi In queste clip Dio Ci sono un sacco Di elementi vecchissimi Ah l'ha fatto cadere E l'ha ucciso Il nabetto Bene Chissà Ora ti capita La trappola Spero Ma Ma Nabbo Abbi la tua vendetta Ah pure questo Gli fa Io Io mi incazzerei Una vita Con gente del genere Spero che muoia malissimo Ha abbandonato Il nabbo Ora L'ho realizzato Adesso Vediamo qua Sti pro player Che fanno le build fight Si sente il rumore La tastiera Fino a qua Fino a Padova Cosa? Non voglio sapere Non voglio sapere Quello che è successo Bene 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 Ma non benissimo Spaga tutto Hola Hola Vediamo un po' Che spavento Che veramente Deve essersi preso Allora Vediamo qua Che succede Questa è fortuna Questa è fortuna Adesso Vediamo un po' Che succede No Lui ormai Tristissimo Si rende conto Della jump E torna L'azione E vince Pure Ok Questo ancora È una season 5 Barra 6 6 Mi pare 6 Cosa 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 Succede Qui Attenzione Cosa sta Succedendo Chi dovrebbe essere No Non ci credo Raga So che non ci crederete Mai Ma mi è successa Una volta La stessa Identica cosa Ha vinto Sparando a caso Nel campo di grano Cosa Vediamo Cerchiamo di Novinare Cosa potrebbe fare Lancia Ecco Spara a caso E becca uno O due Uno Cosa Cosa succede Si è auto Ucciso E lui però È a terra Ok Questo gioco Ha senso Cosa potrebbe Succedere In questa clip Ah Anche questo Mi è successo Anche a me In live Oh sì Le live che faccio Ogni giorno Dal lunedì Al venerdì Dalle 12 e mezza Fino alle 5 massimo Cosa succede Qua Esplode Esplode Ah è vivo Idiota Che storie Vediamo Vediamo un po' Tempio Tempio Tomato Quanto Quanto tempo Oh Boia Boia Ce ne vuole Di bravura Per mancare Una cecchienata Fermi Lui decide Di Cosa Oh mio dio Che culo Ma sti tedeschi Vengono Sempre così Prima sono fuori Safe Poi Vanno Dentro La safe Bo Non dir No No Fai il bravo Non dirmi Che è quello Che sto pensando Lui spara a caso In predict E lo prende Oh 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 Questa musichina È stra-allegra Palese E vai Fai la kill Gliel'hai attaccata Al culetto Eccolo qua Infatti Raga Per un prossimo video Del genere 5000 mi piace E soprattutto Iscriversi al canale E non dimenticate Colcio Supporta un creatore OTPFI Nello shop